Il Movimento 5 Stelle annuncia che presenterà un'interpellanza al Governo in merito a una notizia di oggi. A quanto pare l'antitrust oggi si è permessa di multare due grandi case farmaceutiche, la Roche e la Novartis, per 180 milioni di euro. Ebbene, questa notizia viene riportata dal quotidiano La Repubblica, che sembra che in uno scatto di dignità e di orgoglio, a firma di Roberto Mania, si è permesso di indagare e di fare alcune considerazioni piuttosto gravi, in quanto sembra che due prodotti, il Lucentis e la Vastin, siano stati oggetto di un mostruoso conflitto di interessi da parte di queste due case farmaceutiche. Il giornalista riporta che è stato fatto un lavoro di lobby su stampa specializzata, sulle commissioni parlamentari, sugli organismi del Ministero e a quanto pare nel 2012 è possibile quantificare un danno allo Stato di 45 milioni di euro. Ebbene, il Movimento 5 Stelle e in particolare il blog di Beppe Grillo, da oltre il 2005 seguono questo filone che viene chiamato dalla stampa il filone di Big Pharma. E a quanto pare non è assolutamente estranea gli organismi di vigilanza in seno all'Europa. Quindi noi siamo veramente arrabbiati in difesa dei cittadini che quelli che hanno sospettato che ci fossero veramente dei conflitti di interessi mostruosi sulla farmacovigilanza. Praticamente a quanto pare oggi possono dire di avere ragione. Grazie. Grazie a lei.